Ore 20, Hotel Parma e Congressi sulla Via Emilia Ovest, esponenti di Parma 1913, la società che fa riferimento ad un gruppo di industriali locali e che verrà ufficialmente costituita lunedì prossimo nello studio notarile al Mans in strada Repubblica, incontreranno imprenditori del territorio e professionisti per fornire tutti gli aggiornamenti sul progetto che è in fase di allestimento già da alcuni mesi e che prevede la ricostruzione crociata dalla serie D. L'incontro risulta aperto anche ai tifosi. Come detto la nuova società verrà costituita ufficialmente lunedì prossimo e verrà poi presentata nei giorni successivi alla città. Dovrebbero essere otto i grandi investitori coordinati da Marco Ferrari, già socio di minoranza nel Parma di Ghirardi ma in dissidenza con la sua gestione. Ognuno di questi otto grandi investitori immetterà risorse in misura paritaria. Nonostante qualche smentita del pool dovrebbero far parte potenze come Barilla, Pizzarotti, Dallara, RA, Parmalat, Buongiorno. Il pool avrà il sostegno di un nutrito gruppo composto da piccole realtà imprenditoriali e commerciali. Poi è previsto una sorta di azione a reato popolare. I tifosi potranno versare 500 euro a testa ed avere la possibilità di entrare in un'associazione che nominerà un proprio rappresentante, il quale parteciperà alle riunioni del consiglio direttivo, potrà avanzare proposte, vigilerà a nome dei tifosi tutti sull'attività del club. Il progetto appena delineato appare decisamente in vantaggio, almeno al momento, su quello che fa riferimento invece a Giuseppe Corrado, l'uomo del gruppo The Space Cinema, alla guida di una cordata che era stata vicinissima a rilevare il club dalla procedura fallimentare proseguendo il cammino in B, prima poi di rinunciare in extremis. Cordata, questa che vede coinvolti la Unigasket, azienda bergamasca attiva nel settore della gomma, e la finanziaria Milan Invest che si occupa di immobiliare e di borsa. Stando ad alcune indiscrezioni nel team Corrado nelle ultime ore, sarebbe affiorato un certo nervosismo, dovuto anche alla percezione che gran parte della città gradirebbe maggiormente la cordata locale. Ci permettiamo in tal caso di consigliare serenità. L'era della permalosità Girard-Leonardiana è fortunatamente finita, ora occorrono equilibrio e dialogo. Un'ultima notazione, secondo quanto riferisce Sky Sport, al Parma avrebbe fatto un pensierino nelle ultime ore anche l'eccentrico imprenditore toscano Maurizio Mian, quello del pastore tedesco Gunther, ex patron del Pisa. Stando ad alcune verifiche effettuate dalla nostra redazione, tuttavia non ci sarebbe alcunché di concreto.